Una scelta di responsabilità civile e amministrativa, più che politica, sacrificando sull'altare dell'interesse dei siciliani probabilmente i rapporti con il partito che l'aveva scelta per gli ultimi mesi della giunta crocetta. L'assessore alla famiglia Carmen Sita Mangano si oppone a Giampiero D'Alia e ai centristi che l'avevano invitata caldamente a rassegnare le dimissioni, annunciando di voler portare a termine il suo lavoro con la scadenza naturale di questa legislatura regionale. Ho intrapreso questo percorso per offrire risposte a chi ha la necessità immediata di averne, la gente, la comunità, al servizio della quale ho deciso di mettere tutta me stessa, si legge nella sua nota pubblicata anche su Facebook. Non saranno certamente le questioni politiche, ha concluso, ad interrompere il mio percorso da assessore tecnico in questa giunta. Crocetta ringrazia, ma la sua squadra di governo resta pericolosamente decimata. Sono attese per oggi le dimissioni anche di Carlo Vermiglio, assessore con delega ai beni culturali, che si andranno ad aggiungere a quelle già registrate di Giovanni Pistorio, la cui convivenza con l'attuale governatore e prossimo candidato a Palazzo d'Orleanne si era fatta ormai impossibile dopo le polemiche sulla intercettazione del caso Morace. Crisi di governo che apre la fase del mercato dei candidati per le regionali di novembre. Dopo l'uscita di centristi e moderati, anche il PD dovrebbe dire la sua. Notizia in più si avranno dalla direzione convocata urgentemente dal segretario regionale Dem Fausto Raciti per lunedì. Il timore per i democratici sarebbe quello di perdere la carta a Pietro Grasso a causa del pressing su di lui, di Dalia e Alfano, anche se quest'ultimo sarebbe di diverso avviso. Le prossime elezioni regionali, ha spiegato il ministro degli esteri, si vincono al centro contro i grillini e noi avremo un nostro candidato. Un blef, forse, che se fosse però confermato, romperebbe in Sicilia quel patto nazionale con Renzi che continua a restare in piedi.